Ben ritrovati, il punto, l'intervista oggi sarà dedicata interamente alla Presidente a Puglia Film Commission con noi Simonetta Della Monaco, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie, grazie di avermi invitata. Allora Presidente, sotto il punto di vista culturale non solo, parleremo della nostra bellissima Puglia, soprattutto di quanto la Puglia è Fucina, terra di importanti produzioni cinematografiche, non ultimo ovviamente il B-Fest. È una terra incredibilmente attrattiva da tantissimi punti di vista, magari li scopriremo mano a mano, ma ce ne sono veramente tanti di elementi di attrazione della Puglia. E allora, la Puglia si racconterà attraverso il suo lavoro, ma parleremo direttamente anche di lei, perché da oltre tre anni è Presidente di questa straordinaria organizzazione che racconteremo passo dopo passo, anzi mi viene voglia di dire punto dopo punto. E allora in esclusiva con noi la Presidente Della Monaco. E allora io subito le mostro una copertina che parla proprio di lei e rientreremo, entreremo nel vivo di questa intervista. È il volto e la mente di Apulia Film Commission. Simonetta Della Monaco dal 19 febbraio del 2019 è Presidente della Fondazione, fortemente voluta dal Governatore Michele Emiliano per la sua esperienza e sensibilità. Architetto paesaggista e Project Manager di Brindisi, avvia giovanissima la sua carriera, lavorando per diversi enti pubblici e privati. Una lunga esperienza da consigliera di amministrazione nella stessa Apulia Film Commission, una formazione trasversale tra valorizzazione del patrimonio a Parigi, progettazione paesaggistica e docente dell'Università Sapienza di Roma. Specializzata nei progetti integrati di sviluppo finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, Simonetta dona tutta se stessa al suo lavoro, che riesce a plasmare in una perfetta sintesi tra professionalità e qualità umane, la dolcezza nell'accarezzare i suoi progetti e la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi per la crescita della sua terra. Animata da un interesse profondo per la creazione di nuove opportunità di ricerca e relazione con le memorie, che prende forma dalla natura identitaria dei luoghi e delle persone, la cui unicità ne costituisce la matrice vitale, spiega con parole appassionate e intrise di significato. Dopo la laurea all'Università Sapienza di Roma, conduce esperienze lavorative a Parigi, nel 2005 torna in Italia e applica per conto di enti pubblici l'approccio strategico integrato del progetto urbano in aree con forti rischi di degrado. Lavora su tanti altri progetti e sulla mancata proclamazione della sua mesagne, capitale della cultura italiana, ha detto, non c'è amarezza, il nostro lavoro ci impegnerà per anni. Da mesagnese, anche se vivo quasi stabilmente lontano, mi sentirò sempre coinvolta. Umana Meraviglia è stato il titolo dato al progetto con cui Mesagne si è presentata al bando e noi, aggiunge, abbiamo cercato di recuperare l'umano, che significa recuperare valori e diritti in un processo di crescita culturale. Presidente, spero si sia ritrovata in questa meravigliosa descrizione fatta da Ilaria Delvino. Ma vi ringrazio tantissimo, sono commossa. Presidente, sarà un'intervista dove con lei voglio toccare tutti i punti, ovviamente della sua carriera, ci tengo a sottolinearlo, da oltre tre anni. La sua presenza davvero ha inorgoglito non soltanto il nostro governatore, che l'ha voluta fortemente la guida della Puglia Film Commission, ma soprattutto lei ha ricevuto veramente tantissimi e numerosi riconoscimenti, premi, fra l'altro lei è riuscita a portare la Puglia davvero agli onori delle riconoscenze in tutta Italia, in tutto il mondo. L'ultimo premio è stato quello che le hanno attribuito in Senato. Siete riusciti a fare un lavoro straordinario, avete costituito il vostro impegno in maniera eccellente, per esempio la Film House, avete trasformato la fondazione in un organismo intermedio, avete ripristinato davvero rispetto a quello che può essere l'argomento del precariato, dando anche opportunità a tantissimi giovani di avvicinarsi al mondo della cultura e del cinema. Sì, devo dire, sono tre anni intensissimi, posso dire che sono stata un po' favorita, perché avendo seguito un po' gli sviluppi di Apulia Film Commission negli anni precedenti come consigliere di amministrazione, conoscevo già i punti di forza, i punti di debolezza, come si dice, e quindi ho iniziato immediatamente entrando nel vivo delle questioni e affrontandole pedissequamente, poi avendo io una formazione tecnica, un po', come dire, con la mente un po' matematica, no? E quindi sono andata un po' a spuntare i vari obiettivi che mi ero data già da consigliere di amministrazione come immaginavo potesse diventare la Apulia Film Commission, per cui poi quando sono diventata presidente del consiglio di amministrazione ho pensato, beh, adesso tocca a me realizzare queste cose. Non potevo immaginarlo prima, ma poi mi ci sono ritrovata, per cui ho dato tutta me stessa nel raggiungimento di questi obiettivi. E si vede. Tra l'altro la ringrazio perché in pieno B-Fest noi l'abbiamo strappata ai suoi impegni inderogabili, un'edizione davvero molto importante e toccante. Personalmente le faccio i complimenti perché avete invitato anche dei registi ucraini in quello che è il momento storico purtroppo bruttissimo che stiamo vivendo. Devo dire che da spettatrice mi ha molto commosso. Anche l'idea del raccontare la presenza di questi registi ci ha davvero molto commosso. Sì, il cinema indubbiamente può fare tantissimo perché ci racconta delle storie, ci dice in qualche modo quello che siamo e quello che possiamo essere, perché è vero che è uno specchio in cui ci riflettiamo, ma anche una scatola magica in cui costruiamo come vorremmo essere. Le storie che raccontiamo in qualche modo condizionano il nostro pensiero. Potremmo dire che le storie fecondano il nostro pensiero perché condizionandolo imprimono sicuramente una direzione piuttosto che un'altra. Quindi diventa doveroso in momenti come questo affrontare determinati temi, non tanto per sensibilizzare ma per creare vicinanza e il cinema può diventare un messaggio di pace. Allora, c'è stata un'impresa, devo dire, difficile, ma per lei le sfide impossibili sono realizzabili perché lei è riuscita a trasformare la Puglia in un vero e proprio set cinematografico continuo perché oramai elencare tutte le produzioni, grazie al suo intervento, il suo interesse, sono davvero svariate tantissime. E allora le voglio chiedere, ma come fa? Dormo poco. Dormo veramente poco. E qui ovviamente ho una serie di foto da farle vedere, no? Lisa Ranieri. Che sta per iniziare la seconda serie. La seconda serie, no? Sì. No, devo dire che sì, dormo, davvero dormo poco. Lavoro tante ore al giorno, compresi sabato e domenica, non vado in vacanza, insomma. È un po' un sacrificio, ma quando fai cose che ti appassionano, mia madre dice sempre una ne fai e cento ne pensi, ma il problema poi è che essendo appunto di formazione un architetto, quelle che penso poi cerco di realizzarle, quindi mi rovino la vita perché poi il risultato lo devo raggiungere, altrimenti non dormo la notte, sacrifico pure quelle poche ore rimaste. Però poi i risultati ci sono, si vedono. Siamo addirittura arrivati agli Oscar con La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sofia Loren. Un risultato mai raggiunto dalla Puglia, senza contare le innumerevoli presenze. Ecco, le innumerevoli presenze a Cannes, a Venezia, a Berlino, a Roma, addirittura con un progetto speciale di cui, devo dire, vado veramente molto fiera perché l'ho fatto nascere per una sensibilità sociale che è il Social Film Production con il Sud, fatto con la Fondazione Con il Sud. E nella prima edizione abbiamo vinto la Festa del Cinema di Roma. È successo qualcosa di straordinario perché con Santa Subito di Alessandro Piva appunto ci siamo giudicati il premio del pubblico che poi è l'unico premio presente nella Festa del Cinema di Roma e in concorso insieme a noi c'era Marti Scorsese. Che non era proprio l'ultimo, insomma. Che non era proprio l'ultimo. E poi Alessandro Piva, come dimenticare, il suo primo capolavoro, La Capa Gira, insomma. È nato qui ed è poi diventato, insomma, un film apprezzato in tutto il mondo, in tantissimi festival. Io le voglio innanzitutto chiedere anche, fare i complimenti anche per aver invitato Alessandro Gasman. Bellissimo il momento in cui Alessandro ha parlato anche della consegna di questi 200 alberi per Taranto. Eh sì, sì. Il tema della piantumazione degli alberi mi è molto caro. Insomma, io vengo... Devo fare una confessione. Io sono cresciuta sugli alberi, nel senso che mi arrampicavo sugli alberi di olivo perché... ecco. Mi ha fatto una serie di sorprese oggi. Caspita. Quindi il tema degli alberi... Per me gli alberi sono come delle persone. Anche il progetto di Mesagne, di cui parlavamo prima, prevede la piantumazione di tantissimi alberi e il coinvolgimento di personalità come Stefano Mancuso, che hanno uno scienziato di fama internazionale, che ci ha raccontato per la prima volta che gli alberi hanno un'intelligenza, è una modalità di comunicazione proprio all'intelligenza, alla relazione che intercorre fra le piante e fra gli alberi. Ci siamo ispirati per questo progetto. E alla piantumazione degli alberi sarà dedicata una parte importante del prossimo bando di finanziamento per i film presenti in Puglia, perché questa è un'idea che avevo già da un po' di tempo, ma poi l'ho verificata anche con Feder Parchi, che è questo ente prestigiosissimo che mette insieme tutti i parchi d'Italia, per capire qual è la portata di CO2 immessa dalle produzioni cinematografiche che vengono a girare in Puglia e andare a compensare quella CO2 con degli alberi che saranno piantati e l'indicazione di dove saranno piantati sarà data proprio dai sindaci dei comuni che ospitano il set cinematografico. E questo è un unicum in Italia. Devo dire, nel mondo non esiste in nessun'altra parte un progetto del genere, per cui lo faremo prossimamente e veramente con una grande passione. Ecco, il territorio può diventare industria e quindi la domanda mi sorge spontanea. La Puglia, con le sue bellezze paesaggistiche, con tutte le caratteristiche che abbiamo a seguito, intendete davvero trasformare la Puglia come il luogo per fare industria cinematografica? Beh, allora, da una parte già c'è. Le location naturali o culturali, quindi quelle disponibili, diciamo, l'heritage, quello che abbiamo ricevuto in dote dagli antenati e dal Padre Eterno, quelli ce li abbiamo. Ma per trasformare quella che è una piattaforma produttiva ormai di livello nazionale, anche internazionale, abbiamo bisogno di infrastrutture. La Puglia Film Commission adesso si trova davanti a un passaggio importante, perché deve diventare adulta. Siamo nati, siamo cresciuti, abbiamo attraversato l'adolescenza splendidamente. Adesso quello che era la mia intenzione era proprio di traghettarla verso l'età adulta e l'età adulta è proprio l'incrementazione della filiera industriale, per cui il ciclo produttivo deve essere continuo, la Puglia offre location disponibile in maniera naturale, ma questo vincola gli shooting, le riprese cinematografiche alla stagione estiva. È vero che dura tanto, però potrebbe essere un po' limitativo. Per cui dotarsi di infrastrutture produttive, quindi set virtual set, insomma, adesso... che possa creare l'indotto anche nel resto dei mesi in cui, diciamo, in maniera abitudinale il cinema qui in Puglia non si realizza. E questo ci permetterebbe di far crescere un comparto cinematografico produttivo pugliese, quindi non soltanto produttori che vengono da fuori, ma far crescere i nostri produttori indipendenti che sono bravissimi. Io ci tengo, anzi approfitto, di questa occasione per dire che ci sono professionalità, investitori, imprenditori che si impegnano tantissimo per crescere. Noi stiamo veramente per dotarci di un tessuto produttivo rilevante e spero che cresca sempre di più. Ecco, la realizzazione di infrastrutture per la produzione permetterebbe proprio di supportare la crescita del nostro comparto, insomma, dei nostri produttori indipendenti che sono molto, molto bravi. Presidente, una delle cose importanti, accendiamo i riflettori e il focus sulla formazione, perché è importantissimo, no? Dare opportunità ai giovani, quindi il lavoro, ma soprattutto quanto è fondamentale in questo ambito la formazione. Tantissimo. Grazie veramente, Manila, di aver toccato questo argomento. è un argomento importante, delicato, su cui investire tantissimo. Parlavo prima del comparto produttivo, che comunque ha bisogno di crescere, di essere strutturato e ha bisogno anche di formarsi di quelli che sono i cosiddetti capi reparto, il direttore della fotografia, lo scenografo. Ci sono tutte le maestranze che sono presenti in Puglia, ma che devono crescere, perché un tempo si partiva da Roma con il carrozzone e si veniva in Puglia, perché non c'erano i professionisti, non c'erano le maestranze. Oggi invece ci sono, però bisogna aumentare la competitività territoriale in modo da attrarre sempre di più coproduzioni internazionali e non essere soltanto, diciamo, chi offre un servizio, no? Quindi il service tecnico, il produttore esecutivo, ma diventare completamente autonomi, questo è il mio grande sogno. Quindi la formazione è fondamentale, non soltanto per diventare regista o per diventare attore, ma per diventare produttore, per diventare, come dire, per saturare tutto il cast degli artisti, la troupe dei professionisti, per saturare tutte le competenze richieste per la realizzazione di un'opera cinematografica e audiovisiva. Come dicevo all'inizio dell'intervista, intanto lei prima di iniziare continuava ancora a rivedere tutto quello che riguarda il B-Fest, quindi voglio scrutare ancora che cosa abbiamo, perché questo weekend è ancora nel pino dell'attività del B-Fest. Sì, è un B-Fest molto ricco, il lavoro che fa Felice Laudadio, che è il direttore artistico, è un lavoro eccellente, ci lavora tutto l'anno, per cui è sempre lì a ricercare i film, sappiamo bene che la realizzazione di un festival ha un background molto lungo, di mesi di preparazione, e tutto lo staff di Apulia Film Commission e del B-Fest dislocato a Bari e a Roma si dà davvero da fare. Il B-Fest quest'anno ripete lo schema dello scorso anno, quindi del miglio dei teatri di Bari, con la programmazione al Cursal Alpicini e al Petruzzelli, dove c'è la programmazione di punta, e poi tutti i vari incontri che si realizzano nel Teatro Margherita, anche al Palazzo delle Poste, dove, ad esempio, ci sono dei bei laboratori, tutti i pomeriggi tenuti da Elide Ferri e Roberto Faenza, che stanno incontrando tantissimi giovani e li stanno formando, per cui c'è anche l'aspetto formativo, a proposito di quello che dicevamo prima, ci sono tanti incontri tematici, dove si tocca ogni argomento, per esempio l'altro giorno c'era un bellissimo incontro dove si parlava di aerospazio e cinema, così un mio desiderio sarebbe quello di realizzare un set per l'aerospazio, perché no, anche a Grottaglia, visto che abbiamo lo spazio porto, veramente in Puglia non ci facciamo mancare assolutamente nulla. E poi tanti gli ospiti del Bifest, premi Oscar, come Nicola Piovani, Tornatore, insomma, tantissimi attori premiati, Miriam Leone, Riccardo Scamarch, sono veramente tanti, tante le anteprime anche internazionali, per appunto fare della Puglia un luogo di incontro, non soltanto del cinema italiano, ma internazionale, fra produttori, artisti, realizzatori, autori, e poi i protagonisti indiscussi, come mi piace considerarli, sono tutte le persone del pubblico. Il pubblico è il protagonista indiscusso del Bifest, e poi in un momento come questo, dove le sale... Ecco. A proposito del pubblico, i complimenti che le voglio fare sono anche quelli attivamente diretti, perché quando voi girate le produzioni cinematografiche, vabbè, lo sappiamo, le case di produzione ovviamente portano gli attori, ma moltissimi degli attori, non proprio di second ordine, ma anche quelli che affiancono i protagonisti, anche la gente comune, riesce poi a dare il proprio contributo all'interno delle pellicole cinematografiche che si realizzano in Puglia. Questo è meraviglioso. Sì, 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 è una cosa bellissima. Devo dire che questo, se posso, è il vero punto di forza della Puglia, la condivisione, la partecipazione. Ce l'abbiamo scritto dentro. Siamo una regione accogliente, vogliamo condividere. Se non condividiamo, siamo tristi. E quindi quando un set cinematografico arriva in un comune, tutti quanti dicono stiamo facendo il film. Dalla signora che viene fuori con la tazzina del caffè per gli attori, magari pre-Covid, ha il sindaco che è coinvolto in prima persona, tutto lo staff del comune in genere, se glielo chiedi, ti dice stiamo girando il film, come se fossero parte integrante della produzione stessa. A proposito di programmi e strategie, immagino che oggi i telespettatori del punto sono molto curiosi di rubargli ovviamente quelli che sono le anticipazioni del programma e di tutto quello che prima ha parlato di Lolita Lobosco, ma insomma c'è sicuramente molto altro. Sì, c'è tantissimo, adesso abbiamo all'attivo 15 produzioni cinematografiche perché sono venuti fuori gli esiti del nostro strumento di finanziamento che Regione Puglia mette a disposizione, la Puglia Film Fund, per cui si avvia la stagione, appunto la bella stagione, primavera, estate, autunno e tantissime sono le produzioni dalla seconda serie di Lolita Lobosco al Maresciallo Fenoglio, tratto dal romanzo di Giorrico Carofiglio che vedrà protagonista ancora una volta la bellissima città di Bari, il Profeta che ha visto il coinvolgimento di tanti territori come tra cui anche Brindisi, Lecce, Nardò, insomma tutto il Salento, sono tante anche le pellicole indipendenti, ci tengo a sottolinearlo perché il cinema indipendente io vorrei che fosse davvero il nostro punto di forza, non solo grosse produzioni, quindi non soltanto benvenga la Rai, benvenga Mediaset, benvenga Netflix e sono appunto tutti presenti, ma è importante anche sostenere e valorizzare le produzioni indipendenti affinché si realizzi una nuova narrazione pugliese, una Nouvelle Vague pugliese, perché no? Abbiamo tantissimi autori, sceneggiatori, registi pugliesi che vogliono e devono emergere perché hanno tantissimo da dire, giovani e meno giovani. Presidente dello Monaco, lei ha vissuto moltissimi anni in Francia e che cosa si è portata dietro della Francia e dei francesi? Ahimè, qualcosa che a volte non è molto efficace, poi faccio avanti e indietro, faccio la pendolare, i nostri aeroporti ci permettono di fare da pendolare con Parigi. A volte, devo dire, quello che mi sono portato indietro non è molto utile perché sono due mondi completamente diversi. Insomma, la Francia ha questo rigore che anche nel modo di fare la politesse è tutto molto codificato, tutto molto strutturato, anche il modo di vivere insieme agli altri. La convivenza in Francia è molto codificata, per cui c'è molta distanza, molto rispetto delle regole che sono una struttura della vita. Per noi le regole a volte sono fatte per essere reinventate e io devo dire, lì non mi ci ritrovo tantissimo perché magari da questo punto di vista sono un po' inquadrata. Altre volte invece la creatività che c'è qui mi piace tantissimo, insomma, poi il motivo per cui sono tornata a vivere qui è proprio questo, perché è troppa rigidità tingessa, invece la creatività, la brillantezza, unita poi alla grandissima umanità della Puglia e dei pugliesi, beh, devo dire, non c'è paragone. Ci invidiano in tutto il mondo. È vero. Presidente, lei vive a Brindisi e fa ovviamente la spola con Bari. È questo che poi gli ha permesso anche di avere un grande rispiro attraverso tutte le province e lo fa di fatto raccontando la Puglia attraverso il cinema. Quindi lei rimane radicata comunque un po' ovunque, in tutti i luoghi di questa straordinaria regione. Sì, infatti, quando mi chiedono dove vivo, io rispondo sui mezzi di trasporto perché poi faccio la spola anche con Parigi e la Puglia è molto lunga. Devo dire, con grande soddisfazione lo racconto. Nel periodo, insomma, in cui mi trovo a ricoprire questa carica i comuni soci della fondazione sono raddoppiati. Adesso sono quasi 60. Questo vuol dire che c'è un grande interesse da parte del territorio. Anche la modalità di condivisione viene molto apprezzata. Ne facciamo tante attività presso i comuni soci, dalle rassegne, agli incontri, le masterclass, i talk show. Sono veramente tantissime le attività che facciamo. Dicevo, la Puglia è lunga per cui andare su e giù. Abbiamo più di 20 festival in giro per la Puglia e poi è un tale piacere incontrare le persone, i comuni, i sindaci, gli assessori, il pubblico. È sempre, insomma, veramente un grande piacere. Si conosce tanto e si conosce molto bene il potenziale di un territorio. È anche una trappola perché poi ogni volta che vai in un posto dici, qui ci si può fare questo, qui ci si può fare quest'altro. Allora stai lì a proporre, a creare nuove visioni e a diminuire le ore di sonno. Allora, con grande successo il lavoro di architetto, altrettanto quello da presidente di un'organizzazione davvero così importante legata al cinema. E domani, come si immagina, Simonetta dello Monaco? Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. No, mi immagino sempre a servizio di un territorio perché sono profondamente convinta che chi può fare qualcosa la deve fare. Io sono tornata al sud per fare qualcosa, per dare il mio contributo. Mi piace dire che sono a servizio del territorio. mi piace dire che servo l'istituzione nel senso ampio del termine. Mi arrabbio quando vedo che ci sono delle persone che si servono delle istituzioni. È una differenza colossale per cui spero di continuare a fare del mio meglio per essere a servizio del territorio. Ecco, prima di salutarla le voglio chiedere ovviamente l'argomento mesagne che lei ha tanto nel cuore. È stato proprio un soffio Mesagne una importante nomination ma ha perso la possibilità di essere una città sulla carta della cultura ma di fatto è straordinariamente così bella che Mesagne a prescindere dal titolo rimarrà una città destinata alla cultura. Ah sì, assolutamente. Devo approfitto per ringraziare il sindaco Tony Materrelli che io dico se c'è un terreno fertile e uno non ci pianta un seme è veramente un grande spreco e Tony è un terreno iper iper fertile e soprattutto è anche qualcuno che sa custodire questo seme per cui io mi sono spesa tantissimo perché era il momento giusto e la persona giusta e come qualsiasi pianta a proposito di alberi di piantare gli alberi quando viene piantata custodita nutrita è destinata a crescere la forma che prenderà lo vedremo ma sicuramente c'è l'impegno di tutti i cittadini di Mesagne per far crescere questa pianta e soprattutto il progetto per il quale abbiamo ricevuto i complimenti della stessa giuria che si è messa a disposizione alcuni componenti della giuria si sono messi a disposizione per sostenere la realizzazione del progetto lo stesso presidente della regione ha pubblicamente espresso la volontà di sostenere la realizzazione del progetto Umana Meraviglia e un nuovo modo di essere umani sarà la nostra prossima sfida insomma proporre ah che bella foto quindi siamo qui per farlo spero tutti insieme assolutamente sì presidente grazie per aver accettato il mio invito per essere stata con noi nel raccontare questa Puglia meravigliosa che ne ha bisogno abbiamo bisogno di tornare a sorridere anche dopo due anni di pandemia e quindi la seguiremo seguiremo tutte le attività della Puglia Film Commission grazie davvero grazie di cuore per questo invito meraviglioso grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori